Ti starai domandando perché riempio i palloncini. No. Io te lo dico lo stesso. Non sei l'unico senza più controllo sulla propria vita dopo la coltellata. Taub ha deciso... La mia paziente sta vomitando. Questa non è un'infezione micotica. Che intendi fare ora che non lavori per me? Posso fare tutto. Qualunque cosa, l'essere quasi morto mi ha illuminato. Puoi fare qualunque cosa e torni nello stesso edificio in cui hai lavorato per anni. Cancellalo dai tuoi ultimi desideri. Parliamo della mia paziente? Certo, non appena ammetti di avere le idee confuse. Mi aiuterai, perché anche se non trovi interessante il mio caso, trovi interessante il mio interesse. Beh, se la metti così, colangite ascendente. No. Ho mancato di rubinemia nella norma. I sintomi possono anticipare i risultati delle analisi. È fantastico. Dovremmo farlo regolarmente. 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 Ho mancato di rubinemia ůjutministra per Ravatta. Ho mancato di rubinemia. Ho mancato di rubin experiencia. Grazie a tutti